Allora Paola Fungenzi, segretaria organizzativa dello SPCGL, criticità ma anche segnalazioni che voi ricevete da parte dei cittadini, quindi andiamo proprio sul concreto. Qual è la situazione a questo punto? Noi appunto abbiamo intrapreso questo percorso, come diceva Palma, unitario, quindi do anche una valenza politica importante a questo fatto perché farlo insieme, ci diede CISLUIL, è sicuramente un elemento importante proprio per l'importanza di questo tema che coinvolge trasversalmente tutti. Noi abbiamo appunto organizzato 5 assemblee, 7 sit-in in 7 comuni differenziati come si diceva prima, davanti a dei presidi o delle case di riposo o dei distretti che sono significativi. Perché ci siamo strutturati in questo modo? Noi rappresentiamo i pensionati ed è la categoria più fragile all'interno della nostra società e quella che ha maggiormente bisogno di cure e di assistenza. Sono arrivati in questi tempi, io parlo tempi perché non è da adesso che il problema si sta manifestando e da un bel po' che ne parlate, assolutamente. Sempre via via più pesante. Segnalazioni di persone anziane in difficoltà ad avere il medico di base, il loro medico è andato in pensione, il nuovo medico, seppur nel portale dell'Ulss c'è il medico di riferimento al quale rivolgersi, ci ricordiamo che non tutti i nostri anziani hanno le capacità, le conoscenze per usare la tecnologia odierna. Molti hanno difficoltà addirittura a fare quegli esami che sono prescritti per arrivare a una diagnosi per le patologie di cui soffrono, patologie di nuova insorgenza oppure anche croniche. Quindi limitano moltissimo l'arrivo, cioè a fare l'esame per arrivare a una diagnosi e quindi a una cura. La posticipano il più possibile eventualmente, anche perché poi devono... Non hanno risposte. Uno dei temi che noi abbiamo riscontrato, una delle criticità maggiori è proprio la difficoltà all'accesso, non all'accesso alla prestazione, ma quello che viene un attimo prima, cioè io telefono per avere qualcuno che mi risponda, che possono essere ospedale o cup, che sono ormai in rete e io devo stare al telefono giorni, non ore, giorni ripetute volte, devo provare a chiamare prima che qualcuno possa dire si pronto buongiorno. E poi sulla tempistica invece, per quanto riguarda la risposta effettiva o della visita o degli esami, ti mettono, come si diceva prima, nelle benedette liste di galleggiamento che sono galleggiamenti ai quali molto spesso noi abbiamo segnalazioni di persone che dopo un anno, un anno e mezzo non sono state ancora chiamate. Ecco, queste persone cosa possono fare, visto che stiamo parlando il problema con questo? Allora, questo è l'aspetto... Un attimo solo, ma vogliamo renderci conto che la sanità è sotto lo scacco delle aziende farmaceutiche e strutture private, vogliono tagliare la spesa sanitaria per creare un disservizio e spingerli cittadini a muoversi nella sanità privata, è tutto voluto. Quello che un po' diceva prima anche... Quello che diceva anche Ugo rispetto prima alla programmazione di cui si parlava, la programmazione per i medici e per tutto il personale sanitario. Cosa fare concretamente? Allora, concretamente noi con questa staffetta chiediamo delle risposte immediate da chi governa la salute pubblica, quindi le istituzioni e la politica che sono preposti a dare risposte ai cittadini. Lei mi chiedeva prima come rispondono questi cittadini che sono in difficoltà, come trovano la soluzione. Molto banalmente, se uno ha i soldi si cura e trova delle soluzioni nel privato, privato puro, privato convenzionato. Anche lì diciamo che le attese sono più brevi che non nel pubblico, ma comunque molto spesso anche lì la via più breve rimane sempre la prestazione a pagamento per intero, oppure ed è la cosa più drammatica per la quale noi siamo qui con la staffetta unitariamente per dire noi non accettiamo e chiediamo delle risposte concrete. Noi abbiamo riassunto le criticità che ci sono state segnalate. L'ipotesi A è questa, se uno non ha la disponibilità economica cosa può fare? Non si cura, ed è questo il dramma che noi vogliamo contrastare con tutte le nostre forze che abbiamo messo in campo, unitariamente ripeto proprio perché il tema è fondamentale per tutti i cittadini e devo dire, pensavo prima alle considerazioni che venivano fatte sia da Palma che da Ugo, che è proprio un paradosso perché quei cittadini, quei lavoratori, quelle persone che nel 78 hanno fatto la battaglia per avere la riforma sanitaria pubblica, è stata una grande conquista con l'eliminazione delle mutue, quelle stesse persone adesso paradossalmente non hanno più quel diritto, per le difficoltà che abbiamo poc'anzi accennato e la beffa è che non hanno più non solo il diritto ma nemmeno la cura che sarebbe a loro dovuta. Quindi veramente una fatica per conquistarla nel 78 e la beffa di vedersi sottratto un diritto conquistato faticosamente, costato molto quella riforma. Assolutamente, questo è importante. Altri tipi di segnalazioni riguardano per lo più questo, quindi le questioni che non c'è medico di base, quindi lista d'attesa molto lunghe, c'è qualche altra cosa in un minuto perché siamo quasi in giustizia. La mancanza del medico di base e dei pediatri di libera scelta riguarda entrambe le situazioni per i nostri cittadini. I servizi di prossimità di cui si diceva prima, perché magari molto spesso c'è una risposta ma è al di là dell'altro capo della provincia con delle difficoltà notevoli per le persone anziane che se non hanno nessuno e molto spesso sono anziani soli, spesso donne, faticano molto a poter raggiungere quel luogo dove potrebbero vedere esaudita la loro richiesta. In realtà se non ce la fanno a raggiungere quel posto saltano e perdono la priorità. Questa è un'altra di quelle questioni davvero paradossali che la burocrazia ha creato ulteriormente nei confronti dei cittadini in un ulteriore ostacolo. Ne avete presenti 5 mesi per una gastroscopia e 3 giorni se vado privatamente, la clinica è sempre la stessa, ditemi voi. Questo è proprio l'esempio calzante, che se tu hai soldi ti curi e trovi immediatamente la soluzione. Quello che noi non vogliamo. Avete avuto delle risposte istituzionali? No, abbiamo dei tavoli aperti ma noi vogliamo sollecitare le risposte in maniera precisa e tempestiva ora, perché è vero che la prospettiva a lungo termine sono le cose che sono state dette prima dai colleghi, però quelle sono cose che andrebbero a migliorare e a potenziare sicuramente il servizio sanitario, ma noi abbiamo bisogno adesso, chi sta male bisogna di essere curato adesso. Assolutamente. E se posso inserirmi in velocissime, c'è il problema della salute mentale. E dico solo questo, che in Veneto la spesa è minore rispetto a quella delle altre regioni, che dovrebbe essere impiegato il 10% della spesa sanitaria per questo problema che è aumentato con il Covid e che invece è del 2%. Ecco, è scesa al 2%. Ma questo è un altro capitolo, meriterebbe a sé un'apertura. Graio vi ringrazio, ringrazio Ugo Giolo che è uscito prima, segretario SPCGL del Veneto, Paola Fungenzi che è segretaria organizzativa SPCGL Padova, Palma Sergio CGL Padova per aver fatto questo focus sulla sanità, la staffetta della sanità, vedete tutte le informazioni comunque sul sito della SPCGL e anche della CGL, comunque a livello unitario di tutti i sindacati. Articolo 32 della Costituzione, tutela della salute pubblica. Buon proseguimento, rivedete la puntata naturalmente in replica nel nostro sito internet. Grazie.